Si chiama Ana Paula da Silva, è una deputata di nazionalità brasiliana che appartiene allo stato di Santa Caterina per il PDT, Partito Democratico Laborista e pensate che è una donna che ha una scollatura davvero stupenda e fantastica, tanto che fa letteralmente impazzire internet intero tuttavia la donna ha chiesto che venissero tolti i commenti pubblicati sul web che vanno a parlare della sua extra large scollatura infatti il vestito rosso che Paoligna, come il suo letturato conosce, ha indossato una settimana nel suo ruolo politico ha causato un tam tam nel web, infatti vi ricordo che ha creato un'ondata di commenti da parte di molti internauti che l'hanno letteralmente etichettata come donna dalla scollatura più che prorompente emozioni su emozioni, fascino su fascino, tanto che molte donne, o meglio molti uomini hanno esaltato in maniera anche troppo esagerata la scollatura della donna deputata brasiliana Ana Paula da Silva vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi, commentate e al prossimo da Narratori Italiano